La tragedia è stata evitata per puro caso. Un tir carico di cassette di legno e plastica sbanda sulla strada resa scivolosa dalla pioggia e termina la sua corsa contro la finestra di un'abitazione al piano rialzato di questa palazzina. Siamo alla periferia di Margherita di Savoia in direzione Manfredonia. L'incidente avviene intorno alle 13.30 e solo per puro caso si risolve con un ferito lieve, l'autista del tir, un foggiano che se la cava con qualche escoriazione e tanta paura per gli inquilini della palazzina e i residenti della zona. Perché il tir, quasi fosse un bisonte impazzito, prima colpisce un palo dell'illuminazione e poi finisce la sua corsa sfondando la finestra di un'abitazione al piano rialzato. Si teme il peggio sino a quando i vigili urbani del comando di Margherita di Savoia, intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilevi del caso e per dirigere il traffico nella zona, non accertano che quella casa è disabitata, i proprietari vivono al nord e non ci sono state altre persone coinvolte nell'incidente, se non l'autista del tir. Ma resta la paura delle famiglie che vivono in quella palazzina. L'impatto tra l'auto articolato e il muro è stato così violento da far pensare in un primo momento al terremoto. I rilievi dei vigili urbani consentiranno di accertare le cause dell'incidente. Stando ai primi accertamenti, pare che il sistema frenante del tir sia andato in tilt, provocando lo sbandamento prima a destra del senso di marcia e poi a sinistra, concludendo la sua corsa impazzita sul muro della palazzina. Per alcune ore il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di recupero dei bancali, mentre l'incidente ha riaperto le preoccupazioni tra i residenti della zona sul transito di mezzi pesanti a pochi metri dalle case.